Secondo me per Milano potrebbe essere meglio l'arte che alle varie oggettine. Milano ama chi ancora occupa. Miracolosamente accadono cose appena visti che oggi. Movimento, arte, creatività, autogestione ora. Macao, Milano, artistica, creativa e antifascista ovviamente. Milano, area culturale autogestita, organizzata. Milano, arte, cultura e altro oggi. Per me Macao è musica, animazione, colori, arte e...